Buongiorno, col termine di stipsi o più comunemente conosciuto stitichezza intendiamo tutto quell'insieme di disturbi legati appunto all'atto della defecazione. Questo è un problema molto diffuso soprattutto nel mondo occidentale anche perché probabilmente noi nel mondo occidentale abbiamo diciamo abitudini alimentari che non sono adeguate a un efficiente funzionamento del nostro apparato digerente. In particolare abbiamo una scarsa introduzione di fibre e una scarsa introduzione di liquidi corrispondente. Se già portiamo questo tipo di correzioni è probabile che molte delle stipsi che noi affrontiamo siano risolvibili. Tuttavia sono piuttosto restio a diciamo sottoscrivere al di sotto di un cappello generale di stitichezza col termine di stipsi o stitichezza perché in realtà vi sono vari meccanismi che possono interagire nel creare un paziente stitico. Questi meccanismi di conseguenza essendo molto variabili ed eterogenei necessitano di approcci diagnostici e terapeutici anch'essi variabili. Quindi io credo che se vogliamo veramente combattere il problema della stipsi molto frequente come detto nella popolazione generale dobbiamo affrontarlo in maniera corretta da un punto di vista sia dell'iter diagnostico che di conseguenza dell'iter terapeutico.